Contagi e ricoveri. Il virus corre veloce in queste ore, ma la situazione è sotto controllo. Molti pazienti sono seguiti a domicilio con terapie innovative, ma scendiamo nel dettaglio. Nell'ultima settimana 4.350 contagi, di cui 1.835 sintomatici e 563 positivi da tampone da guarigione. I ricoveri e ricoveri all'ospedale di Biella sono 131, di cui 4 in terapia intensiva, 26 in semi-intensiva. 3 su 4 in terapia intensiva sono non vaccinati, mentre in semi-intensiva 24 su 26. Mentre 96 pazienti sono in medio-bassa intensità, 4 in ginecologia, 1 in pediatria. A questi 131 pazienti se ne aggiungono altri 6 in continuità assistenziale a valenza sanitaria, quelli in cui le condizioni non consentono il diretto invio al domicilio. L'ASLE di Biella punta anche sulle terapie proprio a casa, da attivare attraverso i medici curanti, che lo richiedono i colleghi delle unità speciali di continuità assistenziale. Sono 187 i pazienti seguiti con 12 in ossigenoterapia. 124 sono stati trattati con anticorpi monoclonali. Sempre a domicilio, nell'ultimo mese, 30 pazienti sono stati trattati in via endovenosa negli ambulatori ASLE con il Remdesivir. Questo farmaco è destinato ai pazienti ad alto rischio di malattie oncologiche, cardiovascolari gravi, insufficienza renale cronica, immunodeficienza, obesità, diabete, ecc. La terapia si effettua con iniezioni per 3 giorni entro 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. Da una settimana inoltre viene utilizzato un altro antivirale, il Molnupinavir, una capsula che si deve prendere per 5 giorni, quindi nei primi 5 giorni della comparsa dei sintomi. Infine, il dato dei dipendenti ASLE, sono circa 70 attualmente contagiati e 47 sospesi per inosservanza delle norme COVID.